Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della nostra Master League, la nostra avventura per la Roma, signori, si prospetta un'ultima partita di campionato molto importante Abbiamo 3 punti di vantaggio sulla Fiorentina, 2 punti di ritardo sul Dortmund e un'ultima partita da giocare per la quale naturalmente ci basterebbe anche un pareggio, signori, per andare in Serie A Detto questo, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giocatori e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti Scusatemi, la voce un po' in nasale ma un po' di raffreddore mi sta colpendo Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo Io sono carico a pallettoni, procediamo all'incontro, dai così Dovremmo giocare l'ultima partita contro l'Ajax, se non ricordo male, lo scopriremo assieme Lo scopriremo assieme, allora, formazione, andiamo a impostare la formazione Allora, formazione, cambia, utente me la cambi come piace a me? No, la cambi come cazzo, lo ti pare a te, va bene E allora andiamo a impostare sempre tutto, modifica posizione Dai, 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 dai Castello lo mettiamo due tacchette più indietro così Arri, lo mettiamo due tacchette più indietro così Perfetto, utente E poi andiamo a cambiare i nostri bellissimi giocatori Allora, Arri diventa centrale Castello prende il posto di Espimas Miranda prende il posto di Cellini Ximenez esce per Vorlangen Vero, Bavangita non è disponibile È stato espulso nella scorsa partita, non me lo ricordavo più, signori Porca miseria Questa è graziosa, questa è graziosa E allora giochiamo con Espimas e Castello Che se non me va bene Tutti sulla tre quarti Arri, attaccante centrale Poi Vorlangen e Miranda Giochiamo così, signori Prima partita in cui non sarà presente il nostro Bavangita Giochiamo contro l'Ajax Ribadisco, ci basta un pareggio, signori Ci basta un pareggio Per accedere alla Serie A Subito, così Veloce, rapido, in dolore Abbiamo un Arri in più Ma un Bavangita in meno Questa cosa mi mette un po' a disagio Perché Bavangita, sapete, è il mio pubblico Non c'è partita senza Bavangita La cazzarola Miranda, Miranda, Miranda Cerca Totti Totti, 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 Totti Che si è data una svegliata Nell'ultimo periodo di Totti Castello, 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 Castello Buono il movimento di Castello Buono il movimento di Castello Grande Castello Il cross inutile Perché il cross su questo gioco Come mi avete scritto nei commenti Valeri Mamma mia che bordata di Valeri, signori Mamma mia che bordata di Valeri Che recupera un gran pallone E cerca l'angoletto basso Comprementi Caccia da con Miranda Totti, riesce a girarsi Totti, 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 signori Mettiamola già subito nel binario Che ci interessa a noi Mannaggia Totti, ci ha provato Caccio d'angolo Ancora per la Roma Ancora Miranda Questa volta parla di Vorlangen Vorlangen Vorlander Vorlander Va bene Cross per l'Ajax Ma non c'è nessuno Che Ma Perdiamo un pallone No Via Fuori, 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 fuori Calma, calma Non lo farei cross E non lo Grandissimo Stromer Che dopo il gol dello scorso episodio Stromer mio Io ti sto a fare complimenti E tu fai ste cagate Stavo dicendo Dopo il gol dello scorso episodio Si è esaltato Però va bene Valeri Valeri per Totti, Totti Per Vorlangen, Vorlangen Per Castello Azione avvolgente della Roma Che riparte con Castello ancora Guarda Castello Guarda Castello come si è svegliato su quella fascia Guarda Castello come si è svegliato su quella fascia I cross sono inutili in questo gioco Miranda però recupera un gran pallone Miranda che Perdiamo subito Mannaggia Miranda lo puoi andare a recuperare se ti va Se c'è voglia Lo potresti recuperare Mamma mia Mi siamo messi male Bene Meno male Meno male Questa ex che sta giocando bene Noi siamo un pochino addormentati Non 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 seguiamo bene Siamo già in modalità Promozione Signori Siamo già in modalità promozione Non stiamo tenendo bene il campo Ma ricordiamoci che dobbiamo vincere noi per ottenere la promozione Con una sconfitta non ci andiamo in Serie A Ma No L'aveva presa L'aveva presa Non è vero Ivanov? Ma che cazzo l'ha divarata fa Ivanov? Sei il prossimo A salutarci Sappilo Calma io sono che è freddo Calma io sono che è freddo Ci basta il pareggio È giusto? Ci basta il pareggio Dai 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 Ci provo a fare le azioni col castello Ma non è la stessa cosa Non è la stessa cosa di Babangita No 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 Tienemelo fuori Va bene No Ventitresimo Ajax 1 Roma 0 Ajax 1 Roma 0 Ajax 1 Roma 0 Espimas Che finalmente si fa vedere su quella fascia Espimas 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 Provano un'accelerata alla Babangita Che non gli riesce Il pallone è buttato dall'altra parte Da parte dell'Ajax Che a noi sta benissimo Se riuscissimo però a controllarli Sti cazzola di palloni Sarebbe ancora meglio Castello 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 Attenzione per Miranda Che riesce a girarsi Miranda Mannaggia Ho cercato il Il pallone piano piano Tutto questo Ah Rì non ha toccato un pallone Uno Non ne ha toccato uno L'asse tutti a Rì Oggi non funziona Mannaggia Dai Questa è una gran cacata però Questa è una grandissima cacata Scusami Non mi puoi far fare Stai cacati Io recupero il pallone E quello glielo passa giusto All'attaccante dell'Ajax Porca miseria Valery Con calma Miranda Miranda Ajax riesce a ripartire Ma noi lo blocchiamo con Yorga No vabbè Dai Mamma mia Signori Però dai Cazzo Due passaggi Cavolo Cavolo Due passaggi In croce Riusciamo a farli Per uscire bene Dalla nostra area Io non chiedo Chissà che cosa Ma due passaggi In croce Per uscire In modalità tranquilla Dalla nostra area di rigore Azione avvolgente E poi ci perdiamo Sull'ultimo passaggio Ci perdiamo Sull'ultimo passaggio E qui con un rimpallolo Riescano a ripartire Con Crohnker Non abbiamo un esterno veloce Su quella parte Non abbiamo proprio esterni veloci Non è che non abbiamo esterni veloci Su quella parte Non abbiamo proprio esterni veloci Miranda recupera un pallone No Ci aveva provato Però 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 Ora ci riesce Pallone indietro Per Stromer Pallone pericolosissimo Perché se perdavano Sto pallone lì Era finita Totti 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 Cercato il movimento Per darla A Henry Henry dorme Henry oggi Proprio non Si sta chiedendo Perché è venuto Alla Roma Attenzione Castello 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 Riesce a trovare Jorga Che con una piccola disponibilità Si provò a piazzare E no Non guadagniamo Manco il calcio d'angolo Manco il calcio d'angolo Guadagniamo Evitiamo di prendere il 2-0 Cortesemente Evitiamo di prendere il 2-0 Prima della fine Il primo tempo Grazie Me ne sarei molto grato E no No Lo dobbiamo prendere per forza Non c'è niente Ma dai Allora me lo butta fuori Magari Me lo butta fuori Mamma mia Che partita terribile Che partita terribile Signori Ma lì avremmo preso il 2-0 Avremmo preso il 2-0 Se non lo pigliamo la suppunizione Se non lo pigliamo la suppunizione No Per fortuna non l'abbiamo preso Suppunizione Finito sto primo tempo Ci manca un difensore centrale Che ora dobbiamo un attimino Andare a spostare Vorlangen Su quella fascia Eh mi manca Babangita Signori Mi mancano le accelerazioni di Babangita Mi mancano le accelerazioni di Babangita E purtroppo si Sono diventato un Babangita dipendente Sono diventato un Babangita dipendente Però va bene Calma 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 Formazione Gestistiche formazione Allora intanto dobbiamo andare a mettere L'Orlanden Lo lasciamo da qua E andiamo a mettere in difesa E poi Miranda Me la metti Un pochino più Centrale Si fai quello che vuoi Utente Fai qualcosa Cazzarola Voi Ma noi dobbiamo pareggiare Questa partita Westen 0 E io Degenero 0 Ci interessa Fiorentina Signori Firenze 0 Parma 1 Ok Fiorentina sta perdendo Io non ho visto Ora quanti punti Era il Parma Dietro la Fiorentina Ma se non sbaglio Non dovrebbe essere Un problema per noi Arri 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 Si è svegliato Arri Si è svegliato Signori Arri No Ho cercato un movimento Alla Babangita Ma non gli è riuscito Ho detto Ci provo io Visto che nessuno qui Vuole fare il Babangita Lo faccio io Aia 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 Vorlangen Vorlander Subito Super Vorlander Che si inventa anche Questi ci stanno a pressa Come 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 Aia Aia Punizioni Le punizioni Non le so batte Quindi giocano lì Evitiamo magari di perdere la palla Visto che è nostra L'abbiamo persa Beh Bravissimi Bravi tutti Bravi tutti Bravi tutti Castello C'ha lo spazio per il movimento Ma non c'è nessuno E lui non lo sa fare Quel gioco Per ora No Mannaggia C'è stata la spazio La posizione Bellissima Lui è lento Eh vabbè Sì Buttami fuori pure questo Se c'è coraggio Do ci ci ha munito Punizione Roma 0 AX1 Che cannonata Che ci ha tirato Alveazzi Non lo so Mi sa che ho letto male Mi sa che ho letto male Yorga Ma no No vabbè No vabbè Dai No vabbè Non 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 Boh Che cazzaro l'ha fatto Non si sa Abbiamo un attino Totti 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 Mio però Totti Mio Valeri Riesce a recuperare Un gran pallone Valeri Che cerca Castello Che cerca Henry Che cerca Ancora Chi Sua sorella Giovanna Cerca Sua sorella Giovanna Stava a cercare E non l'ha trovata E tu dove è mia sorella Attenzione ancora Totti 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 Che si gira Ci prova Primo squido Della Roma Al quindicesimo Del secondo tempo Con Terry Henry Che ci prova Ma non trova Lo specchio della porta Attenzione Palla per Espimas Espimas Per Totti 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 Per Castello Castello Panarri Henry 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 Mannaggia Avevo cercato Miranda Avevo cercato Miranda Se la palla Gli arrivava Tiravamo subito Diciassettesimo Castello Ancora Riesce a partire C'è un po' di spazio Castello 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 Non mi è riuscito Non mi è riuscito Lo 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 Sprint Il cambio di passo Non mi è riuscito Il cambio di passo Dai Riesce a recuperarla Sta cazzola di palla Jorga 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 Per Castello Ok Che riesce a liberarsi Del marcatore Castello Castello Però è marcatissimo Totti 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 Arri 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 Cerca il movimento Lungo per Castello Che riesce a regolare il pallone Ma poi il movimento La ex recupera palla E finisce in calcio In punizione laterale In fallo laterale Si chiama fallo laterale Totti 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 Ma porca miseria Campo praticamente Ma non è questione Ma non è questione che ci manca Bovencita È proprio questione che non ci siamo noi Jorga Ivanov La buttiamo fuori sta cazzo Mamma mia come ci siamo salvati Mamma mia come ci siamo salvati Pallone per Castello Che lo perde subito Noi non riusciamo a far Cioè siamo stati No fortunati di più In questa situazione Che loro hanno preso tre traverse Non so quanto cazzo Le traverse hanno preso Proprio Ma è calcio Ma è No vabbè Una palla che era fuori Signori Hanno trovato un gol assurdo Hanno trovato un gol assurdo No 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 Incredibile 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 Non ci posso credere Non ci posso credere Che partita stiamo a perdere Contro l'Ajax Signori Che partita stiamo a perdere Contro l'Ajax Mamma mia Che partita stiamo perdendo Contro l'Ajax In uno dei tanti commenti Mi avete detto Di fare le triangolazioni Me lo sono scordato Complimenti Ci sto pensando solo ora Ma le triangolazioni Con chi prima Dovrei vedere dei giocatori Che stanno giocare a pallone Praticamente Mamma mia Mamma mia Ricordiamo sempre Che abbiamo anche L'uomo in meno Dai però Non mi puoi perdere Mezz'ora per recuperare Un pallone E poi me lo perdi Subito così Mamma mia Attenzione Calcio d'angolo Per l'Ajax Solo Vabbè 3 a 0 Dell'Ajax Completamente libero Di saltare Nella difesa Romana L'Ajax trova Il 3 a 0 Ajax 3 Roma 0 Si fa fare un fallo Ovviamente quella squadra Spero questo non sia successo Spero che questo non sia successo Me lo auguro vivamente Ne avrete risultati West Ham 1 Rio de Janeiro 1 Fiorentina 0 Parma 2 Attenzione signori La Fiorentina ha perso La Fiorentina ha perso Questo dovrebbe significare Promozione in Serie A Non prendiamo punti Va bene Secondi signori Appari punti con il Parma Ma ce ne andiamo in Serie A Promozione raggiunta signori Dai così Dai così Secondo posto Ce l'abbiamo fatta Mamma mia che campionato sudato Mamma mia che campionato sudato Isperabile Questa situazione Ma ce l'abbiamo fatta Ma ce l'abbiamo fatta Me lo confermi Si Dai così Ce l'abbiamo fatta Signori La Roma Dopo un inizio di campionato Terribile Terribile E una sconfitta All'ultima giornata Si porta a casa La promozione Arriviamo secondi in campionato E ce ne andiamo In Serie A Grande così Grande tutti Grande tutti signori E una sconfitta Che vale la promozione Si Decisamente si Mamma mia Mamma mia Isperata questa situazione Isperata Ci danno 15 punti 10 punti base Più 5 punti bonus Abbiamo 51 punti Signori Tanta roba 51 punti Si possono rompere Tanti bei giocatori Serie A Scendono il Monaco Il Liverpool Salgono il Dortmund E la Roma Ce ne andiamo in Serie A Signori Ce ne andiamo in Serie A Dai è così Partire dalla campionata Master League Dalla frontale Le più famose scuole del mondo Porta la sua scuola In testa al campionato Ci proveremo Signori Eccoci qua Contro il Real Madrid Lazio Il Bar di Monaco Il Dortmund Il Barcellona Il Leeds Il Valencia Il Manchester La Roma Il Leverkus Il Marsiglia Il Milan Il Buenos Aires Non mi ricordo La Juventus Il Chelsea E l'Inter Signori Si fa Si Ora Si inizia A ragionare Sul serio Detto questo Signori Vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per il like Per i commenti Per i giugenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao